google cover vegetato defcon 5 questo copre occhialone alla duplice funzione copre gli vostri preziosi occhialoni da polvere sassi schegge tutto quello che può danneggiarli e inoltre rompe la forma della sagoma del metto rendendolo meno identificabile di notte special modo e visori nottori andiamo a vedere come sono fatti hanno degli agganci in materiale plastico per metterli intorno l'elastico dei vostri google in questa maniera ne hanno uno per parte poi hanno degli elastici con cursore per fissarli per tirare questa parte in cordura davanti troviamo un grosso velcro per applicare specie altre catarin frangenti tutto ciò che voi desideriate e all'interno troviamo che è sottopannato con un materiale morbido una specie di velluto antigraffio che va a coprire tutto la parte più delicata dei vostri occhialoni questa parte in effetti la troviamo sia sotto che sopra vediamo gli occhiali e lo vediamo da vicino interamente in cordura molto solida molto ben costruito robusto taglia unica ovviamente poiché è regolabile tramite questi elastici che si possono tirare e fissare con questi cursori molto resistenti anche l'elastico e generoso di buone proporzioni e l'interno un velluto molto morbido antigraffio è io Grazie.